Good morning youtubers! Quest'oggi è un video che non siete abituati a vedere più di tanto nel mio canale, però questa volta ne vale la pena soprattutto per chi si affaccia al mondo del pc gaming e perché no, anche a quello di youtube. Intanto potete anche approfittare per vedere per la prima volta la mia postazione per i curiosoni. Comunque quello che stiamo andando a vedere è un microfono USB plug and play della Klim. Prima che qualcuno di voi si scateni nei commenti non sono stato pagato per dire alcunché non è un product placement, semplicemente mi hanno inviato questo microfono e sono stra libero di dire quello che penso a riguardo. Quindi questa è una review obiettiva ragazzi, non vi devo assolutamente vedere nulla. Quindi parliamo di questo gingillino. Come già potete vedere il form factor è interamente in plastica e i materiali non sono di certo il forte di questo prodotto, però ha quell'aspetto iper aggressivo che normalmente piace ai gamers. Io l'ho blu, però so anche che esiste verde e rosso. Come potete vedere è molto semplice al di là dell'aspetto. C'è la spugna che fa da pop filter, compresa nella confezione, e sostanzialmente due pulsanti. Quello frontale, sopra diciamo alla scritta Klim, per il gain del microfono che permette quindi di alzare e di abbassare il volume in entrata. Più lo alzate più aumentate il rumore, quindi tenete conto questa cosa. Mentre sull'asta, sotto al microfono stesso, c'è il pulsante per mutare o smutare il microfono, che è particolarmente utile quando non volete far sapere i fattaci vostri. Se qualcuno vi disturba, diciamo, durante una sezione di gioco, all'improvviso voi potete mutarvi rapidamente. L'asta poi è montata su una sfera che permette di muovere abbastanza liberamente il microfono e direzionarlo un pochettino nel modo che vi viene più congeniale. Tutto qui quindi, niente di così complicato. Allora mi chiederete, Max, perché ci parli di questo microfono? Beh, partiamo dal fatto che io sono un po' fissato con la qualità audio, tant'è che per il canale ho comprato sia un Rode, sia un Samsung, che sono poi i miei microfoni di backup. Anche nel TS stesso io sono fissato con l'audio e mi dà fastidio parlare o giocare a lungo con qualcuno che ha un pessimo microfono, specialmente quelli integrati nelle cuffie. Però c'è anche da dire che fino a uno o due annetti fa, per avere un buon audio bisognava prepararsi anche ad aprire ben bene il portafoglio perché un buon audio equivaleva anche a un buon costo. E questo è il motivo per il cui siamo qui. Dopo aver testato il Klim posso dirvi che l'audio è incredibile per un microfono che costa 30€ praticamente. Sicuramente sopra la media per quanto riguarda semplici sessioni di gioco per comunicare con i vostri compagni, ma è ancora meglio il fatto che non sfigura alla fine dei conti neanche in un voiceover su YouTube, prendendo ovviamente qualche piccolo accorgimento che vi farò vedere direttamente io in questo video. Quindi questo è il motivo principale per cui vi parlo di questo microfono USB della Klim, davvero un buonissimo audio ad un prezzo contenuto. Sia che vogliate semplicemente comunicare con i compagni senza il pessimo audio medio delle cuffie, oppure che vogliate davvero iniziare a fare qualcosa su YouTube senza spendere subito una cifra, diciamo, considerevole per il microfono, però volete anche una certa qualità. Adesso comunque andiamo alla prova del 9 che poi è la più importante, ossia la prova audio sia con i file RAW, quindi non ritoccato, sia con qualche piccola modifica che vi faccio vedere direttamente io. Quella che state sentendo adesso è una registrazione audio RAW, quindi senza alcun tipo di modifica sul microfono USB della Klim. Quindi questo è il modo in cui vi sentiranno gli altri nel momento in cui andate ad attaccare semplicemente il cavo USB al computer e incominciate a parlare in TS o in Discord, insomma, dove voi giocate. Adesso ragazzi state sentendo una prova audio fatta con il profilo di riduzione del rumore di Audacity. Per chi non sapesse come fare, semplicemente andate in alto su Effetti, scegliete Riduzione del rumore ed elaborate un profilo rumore dove selezionerete un momento di silenzio dove non state parlando sulla traccia. A questo punto poi ripeterete il processo, ma al posto di elaborare un nuovo profilo rumore cliccherete semplicemente su OK, lasciate lavorare Audacity e dopodiché esportate il file MP3. In sostanza ragazzi credo davvero che questo sia un ottimo risultato, il classico, come si suol dire, ottimo rapporto qualità-prezzo. Se siete interessati, quindi trovate tutti i link del caso in descrizione, ditemi se siete interessati ogni tanto a vedere qualche chicca del genere. Ringrazio anche Klim dell'opportunità di aver potuto appunto provare questo microfono e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ayo 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 Ayo